Nell'anticipo serale la Dinamo Ladispoli nel campionato di Serie D torna al successo contro la Stella Azzurra Viterbo per 82 a 62. Una vittoria che momentaneamente porta in vetta gli uomini di Crocicchi che sono stati autori di una bella prestazione. È molto importante perché ci rimette in corsa. Noi puntiamo ai primi tre posti e questo non nascondiamo. E quindi una sconfitta del genere della scorsa settimana va riscattata subito e per questo la vittoria è molto importante. Noi queste partite siamo ormai obbligati a vincere visto che la salvezza l'abbiamo raggiunta con ampio anticipo e adesso ci stiamo credendo alla zona playoff, ce la vogliamo divertire e quindi queste sono le partite da vincere. Noi siamo stati un po' contratti per il primo tempo però poi ci siamo sciolti e siamo andati bene. Vittoria importante dunque con l'obiettivo che rimangono i playoff. Questa vittoria significa ripartire e continuare a fare questa grande stagione che stiamo facendo puntando sempre più in alto e continuando a sognare perché noi come Dinamo vogliamo puntare ancora di più e andare a playoff e non solo quindi continuiamo così, forza! Eh sì, diciamo che probabilmente i primi due quarti ci siamo portati le scorie dell'ultima sconfitta. Eravamo un po' contratti però come abbiamo ripreso a giocare sui nostri ritmi abbiamo subito messo la partita sui binari giusti.